Si chiama Marina Smith, è una bellissima modella del Brasile, è rimasta molto molto colpita quando ha ricevuto dall'ex fidanzato una richiesta di imborso di una mera di soldi per la vacanza fatta insieme un po' di tempo addietro. I due sono stati coppie fisse per 8 mesi, poi sono lasciati, la rottura c'è stata, Marina non si aspettava che venisse ricontattata da lui stesso. Diciamo che in qualche modo, per farvela breve, questa donna ha trovato l'ex compagno che ha dato i soldi per la vacanza fatta insieme tempo addietro. La donna sostiene io gli ho riistituiti ma mi sono vendicata nel modo che ho ritenuto più opportuno. Dopo la rottura lei non si aspettava che proprio lui lo andasse a ricontattare per i voli di soldi. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, la donna ha 34 anni, lui è come si legge sul web, sembra essere un po' più giovane rispetto a lei. Grazie a tutti, un calo saluto a voi, Dario Andro, il natatore italiano di YouTube Italia.